Incredibile per me, perché poi si parla sempre solo della gara, ma poi tutto quello che c'è intorno all'Orientia è veramente impressionante. Uno non se lo immagina neanche, però poi io arrivavo là con tante aspettative, sia da me stesso che dalla gente, quindi gestire questo genere di tensione, di pressione, mi ha fatto capire che sono arrivato a un buon livello di concentrazione mentale, perché ho fatto cose che non mi sarei mai immaginato di fare, se spenso magari a due anni fa a trovarmi una situazione del genere non sarei crollato, avrei fatto cavolate di sicuro, invece quest'anno dopo tanta esperienza e dopo tante gare fatte ad alto livello, sono arrivato lì con una consapevolezza diversa, quindi fare un'Orientia è così, dove tutti si aspettano tanto e riesci comunque a dimostrare quello che ho ali, per me è stata la cosa più importante, cioè dimostrare a me stesso che ero pronto a una situazione del genere, quella gara viene da sé, quasi l'ultimo dei problemi, però rimanere concentrato per quattro anni e poi soprattutto le ultime due settimane prima della gara, dove sembra che tutto vada male, che tutto sia il contrario di quello che ti aspettavi, però... C'è stato un momento a Santos che non è che fosse intorbidito o coinvaurito, però c'è stato un momento, ma con te che sto bene, come era? Sì, sì, a parte che io pretendo sempre tantissimo da me stesso, quindi poi a Santos semplicemente non trovavo le sensazioni che volevo, anche se poi i tempi magari venivano in allenamento, però poi io pretendo sempre di stare come voglio io in alto, quindi una settimana prima della gara stavo ancora male e lo dicevo apertamente al moro, lo dicevo apertamente a lui, che erano Sto andando abbastanza bene, però sto veramente male, mi manca qualcosa, mi manca qualcosa, e quel qualcosa secondo me tradotto poi era semplicemente andare a Rio e sentire l'atmosfera di gara, entrare nella vola, perché finché ti alleni e diciamo il fine rimane ancora abbastanza lontano, quindi sei a Santos e fai ancora tanti chilometri, vuoi trovare la sensazione da gara, ma realmente non la trovi, poi vai un po' nel panico, ma quando entri a Rio, entri nel villaggio, inizio a notare nella vasta olimpica, vedi tutti i tuoi avversari, capisci che non hai niente meno di loro, anzi che stai più forte, quindi dopo lì mi sono casato, è andato tutto bene, però è vero che in un'altra 4-5 giorni prima della gara non ero per niente contento, mi sarei ammazzato. C'è stato un momento, secondo me che lui era in gara, mancava troppe giorni per te in gara? Sì, sì, dopo a Rio gli ultimi 2-3 giorni, sinceramente non mi ricordo neanche cosa ho fatto, era una cosa pensavo, perché ero talmente chiuso, non chiuso in me stesso in senso negativo, ma per me è positivo, mi sono veramente alienato da tutto e sentivo la gente parlare, ma entravo da una parte, ma nel senso buono, io ero talmente concentrato sulla mia gara che poi alla fine non mi sono accorto neanche di quello che ho fatto, tutto è passato velocemente, tutto sembrava un gioco, quindi è stato bello. E qualcuno è che eri consapevole che fino al 1300 metri quasi eri tutto, credo, nel mondo? No, non ero consapevole, no, perché poi in gara non è che riesci a capire bene, a meno che tu non abbia parametri, ma io non ce li avevo, quindi sapevo di andare forte, perché comunque avevo distaccato tanto gli altri, ero avanti dai primi 100 metri, però poi al record non ci pensavo neanche così tanto, da una parte il moro prima della gara, tutti loro mi hanno detto guarda, cioè stai tranquillo, sei più forte, rilassati, vai, fai la tua gara e vedrai che andrà bene, quindi muota bene, cerca di fare la gara in progressione, poi quando sono arrivato lì davanti al blocco, con un po' di paura mi è venuto sempre più attaccare, lo posso dire come aveva detto il moro, però d'altra parte volevo più dimostrare a me stesso che potevo lasciare gli altri lì dopo 50 metri, andarmi e fare gara da solo piuttosto che fare una gara ragionata, probabilmente nello, probabilmente facevo il record del mondo, ma chi se ne frega, non le impiere, quindi io volevo semplicemente stare davanti a tutti e vincere, quindi diciamo che la gara dal punto di vista tecnico non è stata perfetta, però secondo me alcune volte l'atleta deve avere la capacità di dire va bene però lascia fare a me come voglio fare, cioè va bene il tempo, magari lo farò in futuro, non lo farò in futuro, però è un'allimpiade, io in quella situazione lì mi sentivo più sicuro diciamo a cercare di vincere loro più che fare il tempo, quindi sono partito forte e dopo chiaro, verso i 1000, 1100 c'è stato un periodo di crisi, gli altri mi hanno iniziato a riprendere, però avevo già 20 metri in realtà, quindi... Va bene, io vi chiederei, come faccio stesso, di non apprezzare e cercare dietro la medaglia d'oro quello che io ho apprezzo di più, che sono i valori morali, umani e sociali di Gregorio, eh? Grazie.